Allora mister Schiappareva, un giorno da Fulgor TV, ho già intervistato il Presidente e il Dirigente Cammarata, volevo le sue impressioni sull'ultima partita fatta dai ragazzi alla Global in ordine di tempo, dove li abbiamo visti scontrarsi veramente con la realtà locale rispetto alle prime due. C'era un altro livello, abbiamo giocato un'ottima partita, abbiamo preso gol subito dopo due minuti, abbiamo avuto due occasioni con Takafi e con Rosin per pareggiare, il portiere è stato bravo in tutte e due le circostanze. Abbiamo fatto i complimenti a Cammarata, fra l'altro ha avuto un piccolo infortunio, ma tutto a posto. Tutto a posto, ha fatto anche due ottime parate, ci siamo espressi al massimo delle nostre possibilità, abbiamo proposto delle azioni non tanto di gioco ma soprattutto individuali, quello dovremo migliorare più avanti per il prossimo anno. C'è stato qualche episodio che ha fatto arrabbiare senza voler alzare velate polemiche come gli anni scorsi, anche se però a dire di qualcuno che ha seguito la partita quest'anno e gli anni scorsi, sono stati molto più bravi degli arbitri rispetto al passato. Sì, insomma l'arbitro è stato un po' diciamo leggermente di parte però comunque non ha condizionato l'andamento e il risultato finale, questo senz'altro, anzi loro hanno meritato di vincere 1-0 e dico una cosa che secondo me loro hanno giocato con 3-4-96 e noi no, due erano. Ma l'argomento prevedeva due fuori quota, due fuori quota, 2-96 e purtroppo i 2-96 hanno fatto... Questo non farebbe altro che insomma noi vogliamo ancora di più perché vuol dire che se pensavano di arrivare e far tacere l'Italia con the top goal, alla fine sono andati via portandosene via solo uno. Certo, hanno sofferto, hanno sofferto... E quindi una bella soddisfazione insomma. Sì, una soddisfazione, adesso domani abbiamo l'ultima partita e cerchiamo di finire bene questo torneo, questa bella esperienza che abbiamo avuto in Svezia. Grazie mille. Ok, ciao.